partiamo dalla posizione del tecnico allarezzo va avanti con campione l'ho detto non c'è alcun tipo di problema sicuramente il discorso campione devito gli altri che fare il mio possibile adesso per tirarci da questa situazione togliendo gli alibi e responsabilizzando tutti la squadra e capendo che ora il tempo non ce n'è più bisogna fare punti quindi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione le nostre forze sul cercare il mio possibile di fare punti già tra cinque giorni con la ferrapi salò prima ancora di analizzare la partita qual è la situazione degli infortunati avete parlato di medici ad oggi abbiamo quattro infortunati cerci perez altobelli che dobbiamo valutare bene insomma purtroppo sono infortuni che hanno poi tra virgolette scomossolato anche hanno inciso poi anche sulla partita il secondo tempo però ora valutiamo con calma per questo stiamo aspettando gli esseri che non arriveranno prima di lunedì sera perché c'è bisogno di 34 ore per gli esami ecografici potrebbero essere infortuni pesanti adesso non lo sappiamo sicuramente c'è qualcosa di serio ora valuteremo proprio per quanto riguarda invece la partita narezzo che è sembrato però anche al di là della sfortuna però in alcuni casi essere un po troppo arrendevole contro questo cesena che comunque una squadra di valore diciamo che il secondo tempo non ho visto una rizzo arrendevole pensi ci sia stato forse forse un po sterile ma rendevole no perché comunque abbiamo giocato quasi tutta la gara nella metà campo del cesena squadra forte squadra ben allenata squadra di valore però e sono tutte parole libertà e c'è uno segno di parlare del rigore c'è del rigore non mi hanno detto non dato su questo poi bisogna valutare sono delle situazioni da valutare ma oggi noi non cerchiamo alibi per quanto concerne la posizione della proprietà non ci possiamo dire nulla se non rispetto nei confronti di chi sta investendo da quando è arrivato e sta avendo poco quindi questo sono qui a metterci la faccia perché voglio che i calciatori da oggi pensino solo a a lavorare per fare punti e per toglierci dalla struttura insieme a noi naturalmente ecco serve in queste situazioni no quelle squadre un po' operaie un po' con uno spirito diverso adesso gioca molto di fioretto no però non serve più non serve nulla ora serve la fame la voglia purtroppo il fioretto non serve il tempo ho detto è finito abbiamo finito il giorno di andata lei ha sottolineato prima come in casa l'arezzo non ha mai vinto e questo dispiace e dispiace perché fa male alla proprietà fa male a noi vedere loro che investono e non riescono ad ottenere un sorriso ma non c'è tempo diciamo nonostante sia arrivato da poco avere tanti alibi tanti non c'è tempo da parte mia da parte dei ragazzi dobbiamo solo lavorare capire che non abbiamo più tempo ecco senza questi infortuni il mercato d'entrata che va a considerarsi chiuso vediamo per questo detto abbiamo fatto una riunione valutiamo all'iello medico l'esposizione di questi calciatori e cercando in tutti i modi di recuperarli il mio possibile però se dobbiamo fare mettere per comprare per comprare dobbiamo sfoltire perché c'era qualche uscita in settimana e poi valutiamo insomma questo che c'è da valutare il discorso che l'ho detto prima non siamo in pre campionato siamo in campionato ultimi e quindi dobbiamo recuperare punti prima possibile grazie